Sono medico chirurgo, odontoiatra, specialista in medicina estetica e dirigo una clinica che porta il mio nome. Clinica Ezio Costa è nata qualche anno fa per creare uno spazio dedicato ai miei pazienti dove far vivere a loro una esperienza di star bene unica e speciale. Quel tempo di prima visita, quel tempo di ascolto ci permette di poter individuare insieme col paziente il piano di trattamento personalizzato per quel paziente, ci permette di capire quali sono le strategie di alimentazione, le strategie di stili di vita, quello che il paziente dovrebbe fare, dovrebbe mettere insieme per poter mantenere appunto il suo stato di benessere o poterlo migliorare. Naturalmente non ci fermiamo, non ci fermeremo al momento di prima visita o allo stilare un piano di trattamento adeguato o ad eseguire un piano di trattamento, ma accompagneremo il paziente in un protocollo di mantenimento durante i prossimi anni e gli anni futuri, quindi staremo sempre accanto a lui. La clinica vuole mettere insieme tre mondi diversi che insieme si completano, l'odontoiatria, la medicina estetica e la medicina del benessere. Per fare questo abbiamo messo insieme un team di esperti che si occupano di tutto il benessere della persona attraverso strategie dedicate, mirate, che accompagnano il paziente durante gli anni con interventi specifici. Uno dei nostri trattamenti di eccellenza è sicuramente, grazie alla partnership che abbiamo con Clinica Malò, la rivalitazione in planta protesica, cosiddetta All-in-4. Una tecnica rivoluzionaria che consente di riappropriarsi del proprio sorriso e dei propri denti appunto in un'unica giornata, fatta con specialisti di grande esperienza, di grande fama, al servizio ancora una volta, di un'eccellenza per i nostri pazienti. Un'altra cosa molto importante e unica nell'ambito odontoiatrico è quella di voler introdurre, di aver voluto introdurre la medicina estetica nella pratica quotidiana. Medicina estetica, medicina del benessere, estetica del sorriso, estetica del viso. Il mio motto, tutto nasce da un sorriso, voleva racchiudere tutto questo mondo, tutti questi modi. Tutto nasce da un sorriso perché abbiamo i denti belli, splendenti, ma tutto nasce da un sorriso perché anche stiamo bene, stiamo bene con noi stessi, siamo in salute. Uno dei servizi più importanti, più qualificanti della mia clinica è il cosiddetto Customer Care, servizio al paziente. In questo momento tre persone, dopo un lungo periodo di formazione, sono dedicate proprio al paziente. Paziente al centro vuol dire avere l'interesse che il paziente viva davvero un'esperienza importante di star bene all'interno della clinica e quindi mette a disposizione tutto quello che noi abbiamo e quello che noi vogliamo sia messo a sua disposizione. Sempre presenti, sempre in ascolto, sempre capaci di risolvere qualsiasi situazione.